What's up guys! Oggi faremo Eat It or Wear It Challenge In pratica ho due ciotoline con dei bigliettini Qui ci sono scritti 20 bigliettini, 10 a testa, 10 con scritto mangiami e 10 con scritto indossami E qui ci sono 10 alimenti, alcuni buoni e altri un po' meno Noi dobbiamo estrarre uno a testa di questo e vedere che cosa c'è stata fuori Ok, ho paura Iniziamo Salute, cacao Ok, mangia! DIVA! 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 quando lui nevica sempre quando hai una forfola problemi di forfola maionese non so se ho il ketchup il sciroppo d'acero o... io ho il cacao io ho il cacao mi indossa nooo ok ok wow oh oh no nooo nooo vedi io ho il cacao il cibo avanti uovo ahahah 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 lo indossi si io te lo indosso a te tu me lo indossi a me ok stop no no ahahahah ahahahah Oh mio Dio, mi fa schifo Mi fa schifo Salsa Mangia Indossa No Oh mio Dio, che schifo Burro Mangia Che Tu vai, io non me li mangia Un po' di bacio Credo che non ti si stacchi più Bello Ciao Ciao, mi chiamo Blocco di burro Cos'è? Che putza di burro Ma sono male Simentone Indossa Strano Strano Mangia Ma perché ci vai che tu ti sti cacchi mani? Non lo so Oh mio Dio, quanto gelatina che c'è Sembra mangiare del cane No, 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 io non la mangio Le indosso Spesso Guarda quanto gelatina che c'è Stasera si metta le salsa Su quanto c'è le maionese Spalma un po' se vuoi Nooo Per far condiccio Spalma un po' se vuoi Spalma un po' se vuoi Spalma un po' se vuoi Allora, per oggi abbiamo finito Vediamo la settimana prossima con un altro nuovo video E restate a zero Ciao Ciao Buongiorno a tutti Today is 22nd of January and is a Friday Today is 22nd of January and is a Friday